Si vuole intervenire a proposito dell'articolo uscito ieri su un quotidiano locale, dove il sindaco di Valbondione dichiara che la spesa dell'opera relativa alla riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione sarà tutta a carico di Enelsole, ovvero la società esecutrice. L'operazione non è a carico di Enelsole, ma come si legge nella delibera di consiglio del 28 settembre, il comune di Valbondione dovrà pagare ad Enelsole l'intervento per 132 mila euro, oltre l'IVA per 29 mila euro, mediante un piano di ammortamento di nove anni, che prevede pertanto una spesa per interessi di 40 mila euro e quindi nove rate annue di 19 mila euro, per un ammontare complessivo quindi di circa 202 mila euro. Tale spesa annua si presume verrà largamente compensata dal risparmio energetico, che è pari al 51% dell'attuale. Quindi il comune decide di effettuare l'intervento presumendo che l'operazione si riveli a costo zero grazie a questo risparmio energetico. Non si critica l'operazione, che è positiva, ma si pretende che al cittadino gli interventi siano spiegati nel modo più semplice, corretto e reale possibile.